E' Salvatore Runghi l'unico candidato a Napoli nella lista di Fratelli d'Italia per le elezioni europee del prossimo 26 maggio. L'ex vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, oggi segretario federale del Movimento Sud protagonista, ha radunato i rappresentanti della destra storica della città di Napoli per aprire la sua campagna elettorale. Campagna che poi sarà chiusa dalla leader nazionale di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sempre a Napoli, il prossimo 19 maggio. La mia candidatura nasce solo per il Sud, quindi chiederemo in Europa la fiscalità di vantaggio per il Sud, un piano straordinario per il lavoro e inoltre un contratto europeo per i marittimi, che sono un altro tema che coinvolge la nostra regione. L'obiettivo primario è che il Sud non può più restare un popolo di consumatori, noi vogliamo essere un popolo che produce e qui l'Europa deve fare la sua parte. La nostra battaglia è per cambiare questa Europa. I sovranisti che noi siamo, siamo in campo per vincere e vincere significa fare l'accordo col PPA per modificare l'attuale assetto dell'Europa. Questa è la nostra battaglia.